Beh, adesso possiamo parlare, in principio era il suono, e quindi questo è un po' il principio di questo bellissimo libro, non lo dico perché Massimo è qui, ma l'ho divorato, è un libro che si legge anche in poco tempo, perché oggi nessuno ha più tempo di leggere i libroni, quindi la sapienza di Massimo di mettere in 250 pagine un po' tutta la storia della musica, con un particolare, beh, ci sono delle pagine su Mozart assolutamente sapienti, assolutamente illuminanti, poi ti dirò perché mi ha illuminato, poi c'è sulla musica contemporanea delle pagine stupende e sul jazz, che è la grande passione di Massimo, sapete che lui si definisce filosofo trombettiere, non trombettista, dove è la tromba? L'hai nascosta? Eh no, ma la devi far vedere, lo sgrido perché gli strumenti bisogna farli vedere, allora questo significa che la minaccia sarà alla fine, quando suoneremo in duo alla fine, insomma, per cui adesso sentite il dibattito, però avrete anche la punizione finale in duo su temi di Massimo, ecco perché io adesso mi tolgo di mezzo, cioè ho suonato e dopo mi metto al servizio del libro di Massimo e della musica di Massimo, quindi prima di tutto è difficile trovare un filosofo musicista, secondo è difficile trovare parole di questo tipo, concetti e osservazioni sue, ma anche tante citazioni sapienti e coltissime sulla musica con un amore infinito, ecco la cosa che mi ha colpito Massimo è il fatto che tu ami veramente la musica, cioè c'è un amore e essendo lui un pensatore libero non ha quella acrimonia, quella con tutto il rispetto per la critica musicale, per carità, io ho conosciuto dei grandissimi come Massimo Miele, eccetera, che amavano veramente i musicisti e la musica, ma secondo me noi siamo i loro datori di lavoro, cioè praticamente d'inverno li facciamo uscire di casa per venire a sentirci e ci odiano praticamente, è un po' come l'operaio della Fiat che odiava Agnelli, scrivono della musica con un linguaggio molto tecnico, l'ultimissima generazione, tu fratello che è critico musicale sa che quelli che sono venuti adesso parlano di audio tattile, ho letto l'altro giorno, cioè io faccio musica audio tattile, non lo sapevo, un'altra volta ho letto, Gaslini introduce il suo furore espressivo nel ricordito, io alla sera ho provato a farlo e non ci sono riuscito, cioè loro hanno un linguaggio, poi tra l'altro adesso non scrivono più per la gente, per i musicisti, scrivono tra loro, cioè quello che ha le parole più diciamo criptiche è quello che ha molta stima dagli altri, per cui adesso non si parla più di musici, si parlano tra loro, invece trovare uno spirito libero come Massimo che ama veramente la musica così sapiente mi ha riempito il cuore di gioia, basta non parlo più. Io devo ringraziare invece di cuore, seriamente, sinceramente Giorgio Gaslini perché, oltre ad essere quello che avete sentito, si sta straordinario, perché lui mette sempre la linea straordinaria, per essere precisi, per me acquista un significato molto particolare questo incontro, perché Gaslini è stato in qualche modo il mio maestro, io ricordo fine anni 70, ero giovincello, andai ad un seminario a Venezia, si sparse la voce in città, maestro a Venezia, che arrivava il mitico Giorgio Gaslini a fare un seminario, e ci siamo tutti giovani musicisti del tempo, iscritti, esaltati da questa possibilità, e devo dire che da lì è incominciata la mia vicenda musicale. Sono diventati tutti abbastanza famosi, adesso non diciamo i nomi, ma ce n'erano una ventina, tre, e almeno la metà di loro sono oggi molto conosciuti. Il panorama musicale è cresciuto da quei momenti lì, insomma, poi, no? Quindi, insomma, per me ha questo valore, questo incontro che mi onora, perché, insomma, esser letto da Giorgio Gaslini, che tra l'altro lui fa finta di niente, ma è un grande pianista, è un grande compositore, ma ha scritto cose molto importanti sulla musica, io ricordo un libro che ha fatto Epoca, Musica Totale, che ha ristampato recentemente, aggiornato, il tempo del musicista totale, è uscito da Feltrinelli e adesso da Baldini Castoldi, che vi invito a prendere, è un libro bellissimo, che si vede fatto da un musicista, pensatore, perché Gaslini, abbiamo discusso un po' in questi giorni, ha frequentato la filosofia da vicino, ha frequentato personaggi come Enzo Paci, quindi, insomma, questo dialogo ormai è stato straordinario. Diciamo, Massimo, che mi trovo non spaesato, ma in lineetta paesato, eh sì, adesso devo mettere le linee, perché non sono un filosofo, non ho la forma mentis, però tu dici a un certo punto nel libro che il musicista, e arrivi attraverso una serie di dimostrazioni, è un filosofo, specialmente il musicista di jazz, hai detto. Esattamente. E questo mi piace molto, ma io mi ricordo il mio percorso, e dopo parliamo del tuo libro, partì chiaramente un po' come tutti dall'esistenzialismo, e poi ci fu la fenomenologia, mi ricordo che andavo alla lezione di Enzo Paci, senza essere iscritto a niente, però avevo letto il libro La crisi delle scienze europee, e mi era sembrato di capirlo, insomma, dico, magari ho capito niente. E sono andato alle lezioni su e capivo, devo dire, insomma, capivo. E poi, beh, la grande passione per Bergson, e soprattutto il concetto di elan vitale, lo slancio vitale, che poi è quello che facciamo noi, insomma. Cioè, se tu suoni in pianoforte senza slancio vitale, non vi è fuori niente. Cioè, questo strumento non ti restituisce niente. Sei tu che lo fai cantare, il tocco pianistico, il peso del braccio, diciamo, l'afferenza dell'espressione, non l'indifferenza. Insomma, quindi sono i grandi concetti della comunicazione di cui tu parli. Poi ho scoperto più avanti la ermeneutica, con Gadamer, e questa ermeneutica mi interessa moltissimo, ma dove nasce? Da Heidegger, allora sono andato a leggere Heidegger, e mi sembra di averlo capito. Ecco, essere tempo, sto leggendolo, e mi sembra che... perché poi, essendo un genio, quell'uomo là ti fa capire. Si fa capire, non è che scrive per il suo collega filosofo, insomma. E però un trattino tra questi qua fu Wigestein, dal quale ho imparato un concetto semplice di tutto il libro. Tu mi dirai, ma cosa hai letto? Conclude, dopo una dissertazione in quel libro storico suo, dove addirittura si arriva alle formule matematiche, alla fine dice, si può parlare solo di ciò che si conosce, sul resto è meglio tacere. Per cui taccio adesso e lascio parlare. No, grazie. Io devo dire che, sì, in questo libro ho tentato un po' di fare i conti con quello che è per me l'esperienza musicale, no? Perché è sempre stato così, e credo che debba sempre essere così. Quindi il pensiero filosofico non è serio pensiero filosofico se non fai conti con le esperienze della nostra vita e non cerca di decifrarne quello che per molti versi può apparire come un mistero, qualcosa di indecifrabile. Ma la musica in particolare, credo, per un filosofo, per me almeno, ha un senso tutto specifico. Imparagonabile addirittura, direi, anche a quello delle altre forme d'arte, per quanto straordinari e eccezionali. Perché? Ma ecco, vediamo subito. E' interessante ricordare che Socrate, già Socrate, appunto racconta di aver ricevuto un invito in sogno dal daimon, dal daimon. E quale invito? Quello a fare musiche. E su questa frase hanno scritto di tutto e di più. Cosa voleva dire questo sogno? doveva mettersi a fare musica si racconta che Socrate anche suonasse flauto oppure lì Platone che fa parlare Socrate voleva intendere che la filosofia a cui Socrate sarebbe stato destinato sostituiva la più alta forma di musica. Qui poi le interpretazioni appunto possono essere molte. Però io credo che al di là delle possibili molte interpretazioni una cosa è certa. Proprio guardando alla filosofia sin dai suoi testi aurorali non la filosofia di oggi. Platone e compagnia cantante appunto. Cosa capiamo? Capiamo che alla fine ma già priva di Platone già nei pitagolici questo era proprio evidentissimo capiamo che la ricerca la cosiddetta ricerca della verità che la filosofia ha incarnato fin dal suo inizio cos'è se non il tentativo disperato di attraverso la sequenza dei significati che è proprio di ogni discorso di ogni ragionamento di ogni dianoia avrebbero detto i greci attraverso questo sviluppo del discorso e del ragionamento il filosofo ha sempre tentato alla fine di non esprimere questo o quel significato di risolvere i significati in cui il suo discorso si è dipanato risolverli in una perfetta identità che rendesse alla fine impossibile distinguere il dire dalla cosa detta cioè costituire quella armonia termine centrale per tutta l'estetica occidentale quella armonia così perfetta questo è il punto centrale da non rendere neppure possibile la distinzione tra significante e significato tra linguaggio e cosa tra parola per usare il famoso titolo di un libro di Foucault tra parola e cosa e cos'è questo? questo è come dire una situazione assolutamente paradossale a cui la filosofia ha sempre mirato come sua perfezione ultima cioè come dire raggiungere quella identità perfetta quell'armonia perfetta che ecco il punto su cui si concentra un po' il mio libro che costituisce il senso originario della innocenza cioè di fronte a questa unità perfetta non è più possibile giudicare dire cosa è bene cosa è male cosa è giusto cosa è sbagliato cosa è vero cosa è falso una verità talmente potente da non essere più neppure distinguibile dalla falsità dall'errore quindi non è l'innocenza che siamo soliti distinguere dalla colpa no l'innocenza che precede ogni virtù ed ogni peccato l'innocenza che è puro suono grandi studiosi del mito per esempio ci hanno insegnato che una delle caratteristiche della mitologia greca ad esempio è quella di come dire aver compreso che la verità delle nostre parole era all'origine quando 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 le parole non significavano ma suonavano direttamente la musica ecco già in questi testi originari come dire si presenta con questa potenza assoluta di cui noi parlanti noi mortali parlanti siamo totalmente ignari e che i musicisti appunto ci ricordano essere il luogo da cui proveniamo da cui siamo caduti però e cerchiamo disperatamente di tornarvi quindi questa innocenza questo puro ritmo che è il ritmo del cosmo intero quel ritmo che Pitagora diceva di udire di udire ritmo inudibile ritmo metafisico del cosmo che non sentiamo perché ci suggerisce Aristotele perché ma perché vi siamo immersi da sempre quando noi avvertiamo un suono quando come dire il suono appare a partire da un silenzio e poi ha una fine senza queste pause questi silenzi questi vuoti non avremmo né ritmo né musica né suono ma come possiamo udire un suono di cui non conosciamo il prima e non conosciamo il poi cioè il suono e il ritmo della vita cosmica universale in cui siamo iscritti da sempre quindi non la sentiamo fisicamente ma i Pitagorici dicevano è possibile intenderla metafisicamente e quel mago che si considerava Pitagora diceva di udirla quindi la musica è questo io credo è questa espressione di una nostalgia di un linguaggio perfetto perché finalmente insignificante ma non nel senso del non significa nulla significa poco è poco importante di quella insignificanza che non esclude il significato ma che lo rende perfetto e in questo senso se posso dire ancora qualcosa io credo sarebbero molte cose da dire ma il jazz in questo contesto con l'esperienza musicale che ha caratterizzato il novecento e che del novecento è stata secondo me una delle espressioni più alte e più forti il jazz tutto questo ecco lo esprime in una forma assolutamente peculiare ecco in due parole perché secondo me il jazz che ci accomuna poi a parte che appunto il grande Caslini non è solo un jazzista perché ha frecontato c'è la musica classica sinfonica contemporanea ha fatto di tutto questo è anche molto bello ma il jazz in particolare e io ho scritto anche le sue cose sinfonico-orchestrali e mai viene meno questo spiritus del jazz ma perché e cos'è questo spiritus l'anima del jazzista che i jazzisti disperatamente cercano di nominare quando si incontrano quando ne parlano cos'è lo swing quando si parla ha i swing noi musicisti critici tutti parlano dello swing il jazzista ha swing queste parole che sono alla fine sembrano essere puro flattus vocis cosa vuol dire spiegatemi cos'è lo swing uno può cercare di dire il ritmo sincopato si diceva l'anticipo no io credo che sia qualcos'altro e accenno solo a questo io credo che quello che noi chiamiamo swing che cerchiamo disperatamente di catturare con i concetti in realtà indica una esperienza estetica assolutamente irripetibile della temporalità il musicista jazz frequenta e oserei dire solo il musicista jazz da un certo punto di vista non che gli altri non frequentino il tempo evidentemente non c'è musica che non abbia un tempo un ritmo no ma il jazz il jazzista vive il suo rapporto con la musica con i suoni con il ritmo in modo esclusivamente temporale e cosa vuol dire questo? vuol dire non tanto suonare secondo l'ordine cronologico è chiaro devo suonare una nota alla volta devo frequentare il tempo è chiaro tutti sappiamo che il quadro io lo guardo in una istantaneità che non necessita come dire lo sviluppo temporale anche se poi non è vero perché quando noi guardiamo un'installazione un quadro un'opera figurativa dobbiamo sostare restare un certo tempo però ecco il tempo nel jazz e dal jazzista viene vissuto in questa forma specifica che mi pare veramente indicativa e massimamente significativa il tempo il jazzista è oso dire questa cosa che so bene necessiterebbe di spiegazioni un po' più articolate ma non c'è il tempo qui ma suggerisco delle piste di ricerca è vissuta in forma messianica nel jazz si realizza quell'idea di temporalità che non è l'idea greca ciclica di temporalità un'idea spaziale di temporalità e tutta la musica classica qui cerco di mostrarlo nel libro tutta la musica classica la musica colta cosiddetta sino alle sue esperienze più radicali sino al novecento più spinto sino a Cage sino a Nono Varese tutti tutti questi musicisti lo dicono in modo sempre più esplicito ma già già in Beethoven già in Mozart questo è chiaro tutti questi musicisti vivono il tempo come un incianto l'utopia del musicista classico è quella di costruire un'opera che sia percepibile fruibile simultaneamente vorrebbero la simultaneità e nel mio come dire compaesano Luigi Nono questo era chiarissimo l'utopia di Nono era quella di costruire una musica perfettamente spaziale che non subisse il tempo come un vincolo ma ecco perché il gestista invece non vive il tempo come un limite ma anzi si abbandona la temporalità perché ma perché io credo dico questo poi mi fermo un po' ma la temporalità come la vive il gestista perché è una temporalità messianica perché perché vive il tempo se voi ci pensate e anche chi ascolta il jazz dovrebbe rendersene conto potrebbe rendersene conto in modo tale per cui ogni parte esecutiva ogni parte di opera di brano di suite quello che volete voi in quanto tale è una parte ogni parte non subisce il limite della propria parzialità certo noi potremmo dire ma quando io ho ascoltato davvero l'esecuzione di Giorgio Castellini prima quando l'ha finita quando l'ha compiuta alla fine abbiamo applaudito aveva finito e l'opera si era realizzata quando lui l'ha finita non c'era più l'opera c'era il silenzio quando noi abbiamo davanti l'opera nella sua perfezione non c'è più questa è la musica no? ma la cosa straordinaria è che noi questo fatto questo paradosso per cui quando c'è l'opera l'opera non è finita è parziale è imperfetta quando godiamo dell'opera è imperfetta quando l'opera si è conclusa non c'è più questo per il jazzista non è un problema perché in ogni momento particolare della sua esecuzione ecco il punto quella parzialità non manca di nulla perché ha la forma di un presente quello che ci si offre all'udito alla mente di un presente impregnato di futuro che già parla del futuro ecco il problema dell'anticipo del jazzista no il jazzista quando legge una partitura non vuole non può essere fedele infatti io mi ricordo quando tutti si portavamo questi corsi bellissimi che teneva Gaslini al conservatorio di Milano c'erano dei musicisti classici che avevano studiato diplomati che leggevano una partitura banale di jazz di uno standard e che erano inascoltabili ma cosa mancava erano perfette esecutivamente perfette corrette leggevano quello che c'era scritto ma il jazz non vuole essere letto per quel che c'è scritto perché in ogni nota io devo far come dire vibrare ciò che non è ancora non quella che c'è scritta in quella nota devo dire qualcos'altro che essa annuncia che essa promette e che però in questa promessa non si dà come mancante di ciò che promette è tutto lì quel che promette non è mai povera non è mai limitata è un limite che è capace di sopportare la potenza io direi filosoficamente della totalità della totalità del tutto perché il jazzista che lo sappia o meno non perché tutti i jazzisti siano consapevoli di questo ma lo praticano questo che lo sappia o meno ha un costante rapporto con la vera totalità che non è una totalità come dire concepibile come una somma di parti non è la sommatoria delle parti perché nessuna sommatoria di parti dà luogo alla totalità dà luogo ad una parzialità ulteriore e quindi quale totalità il jazzista vive laddove in ogni nota è già al di là di quella nota la vera totalità la totalità che come dire dice propriamente l'indeterminato l'infinito ciò che non è né questo né quel limite né questa forma né quella forma ma non è che perciò sia qualcos'altro un'altra forma è capace di vivere la negazione di quel dato quindi contro ogni superstizione è il jazzista mai mai diventa servo del dato dello spartito mentre noi possiamo studiare un'opera di Mozart solo sullo spartito possiamo studiarla e quella è l'opera poi certo sappiamo che ogni interprete la rende in modo diverso ma l'opera è in quello spartito io posso studiarla capire Mozart io non posso studiare Charlie Parker sullo spartito non capirò nulla di Charlie Parker se non sento come lui suona quelle note e come in quelle note riesce a far essere la negazione di ciò che esse sono senza dire qualcos'altro rispetto a quella nota suona quella nota ma in quella nota è già oltre è proiettato verso un infinito che non è mai di là dall'essere raggiunto ma che è tutto lì in quella nota credo che questo sia una delle tante caratteristiche che rende il jazz davvero la possibilità di un'esperienza metafisica del tempo che nessun'altra arte nessun'altra musica sono mai stati in grado di realizzare credo bellissimo Massimo grazie bello vado 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 ecco Massimo avete sentito quale passione quello che dicevo prima quale amore per l'argomento per l'essenza di cui tratta e ha focalizzato il suo primo intervento sul jazz ma non crediate che sia un libro fai vedere dov'è il tuo libro che lo guardi no? perché è arrivato senza libro è andato a comprarselo il suo libro perché non ce l'aveva ecco filosofia della musica come vedete il jazz si arriva progressivamente è molto bello ad esempio qui mi sono appuntato perché l'ho letto con un grande interesse questo bisogno di innocenza tu parli proprio da questo di questo all'inizio questo bisogno di innocenza che è primordiale questo mi è piaciuto molto ma anche quello che dice a un certo punto la musica si definisce in senso proprio in relazione alla natura che è sempre temporale e l'hai detto ma poi c'è un'altra definizione credo che siano due parole la musica è stata talvolta considerata tra le più alte espressioni della verità dello spirito in quanto perfetta con l'inetta fusione di ragione ed emozione ecco quindi c'è c'è un grande lavoro non della razionalità che è un'altra cosa ma della ragione in quello che facciamo unito all'emozione è incindibile se c'è solo ragione la musica è fredda se c'è solo emozione è solo velleitaria insomma devono esserci tutte e due le cose poi sottolinei anche il gioco tra Dionisiaco e Apollineo che è molto importante quando dici che nel Dionisiaco il culto orgiastico legato alla figura di Dionisio è anche danza musica gioco allucinazione stato contemplativo trasfigurazione artistica cos'è questo se non la vera arte di tutti i tempi specialmente del nostro tempo ma andiamo avanti se mi permetti arriviamo al tuo capitolo Pitagore e Platone e poi andiamo avanti velocemente un passo mi ha colpito personalmente perché questa è un'esperienza che io ho fatto nel mio percorso artistico potevi guarire diceva Pitagora i pitagorici dicevano potevi guarire poteva guarire la musica strumento educativo e catartico per eccellenza l'arte dei suoni ma la musica può influire sull'anima solo in quanto sia l'una che l'altra sono innanzitutto movimento ecco ricordiamoci questo termine movimento che c'è in tutto il libro tuo non esiste musica che non proponga il concetto di movimento come non esiste arte non esiste pensiero e non esiste neanche persona ad esempio tutta la cultura diciamo dei media di oggi inducono la persona al non movimento questo è molto grave ci sono bambini che stanno davanti alla playstation per delle ore e non si muovono cioè la macchina che si muove anche la discoteca che ha questo ritmo beat non è una danza creativa è una danza meccanica tipica della cultura metropolitana e quindi se c'è un suggerimento da dare a noi stessi e a tutti noi è quella di reinventare il movimento del corpo della mente se il corpo è fermo la mente sragiona cioè va fuori dai confini se la mente è ferma il corpo va a migliore cioè lo sportivo che non parla l'italiano eccetera queste robe e quindi la riscoperta del movimento a proposito della mia esperienza se mi consentite a proposito della musica come strumento catartico di guarigione non sto parlando della musicoterapia che è degnissima è un campo con degli specialisti in Italia eroici che fanno questo per aiutare le persone in difficoltà attraverso le curano attraverso la musica ma mi chiamò Franco Basaglia negli anni eroici a Trento quando lui riuscì ad andare in porto con la legge e aprì per la prima volta il manicomio così allora si chiamava di Trento Trieste chiedo scusa Trieste e beh sono passati ragazzi sto parlando degli anni 70 quindi concedetemi qualche inesattezza mi telefonò e dice Giorgio io apro il manicomio domani sera tu devi venire assolutamente col tuo quartetto io vengo vengo e sono andato con il mio quartetto dell'epoca che era un quartetto storico fortissimo facevamo della musica nostra di ricerca ma anche di grande presa diretta col pubblico normale tra virgolette allora io arrivo in questo posto avevo aperto il cancelle di questa villa enorme con tutto il parco ed era pieno di mille persone anche di più e non si capiva chi era il medico perché aveva tolto il camice chi era il matto tra virgolette chi era il sano c'erano tutti uguali forse non aveva liberato quelli pericolosi comunque comunque lì dovrei raccontare avrei da raccontarvi episodi tenerissimi che mi sono successi esemplamente stavamo questo palco stavano suonando e sale dalla scaletta una ragazza giovane con un gran camicione e ecco non ha detto niente ma ha sorriso in estasi per questa nostra presenza e questa liberazione è venuta vicino a me si è accovacciata vicino al pianoforte mi ha preso l'avambraccio e sorridendomi non me l'ha mollato per 40 minuti quindi io cosa avreste fatto voi davanti a mille persone che stanno ascoltando i musicisti i medici la prima reazione istintiva è lasciami suonare giustamente però io in una frazione seconda ho pensato se faccio questo la punisco davanti quindi annullo l'effetto liberatorio di Franco e allora ho tenuto questo braccio incatenato ma dolcemente non era rigido e lei tranquilla beata mi guardava per ringraziarci è andato avanti 40 minuti così poi l'hanno richiamata poi a un certo punto è salito un signore molto grosso così io preoccupato chi sarà questo qua sarà un medico o sarà uno e per fortuna c'era il pianoforte a coda e qui c'era il contrabbasso e la batteria e il salsifonista era là si è incastrato tra la coda del pianoforte e la batteria e tutti poi sentivo che lo chiamavano Piero Piero alla fine ho chiesto Franco ma chi era ah niente guarda è Piero perché lì conoscono tutti ma cosa voleva voleva cantare ti immagini con la nostra musica Piero che canta ma insomma sono episodi di una tenerezza poi ce ne ho tanti altri allora per farla breve e arriviamo all'elemento del tempo e del ritmo quel giorno lì e poi con Franco siamo andati con Franco Paziana siamo andati in tutta Italia in manicomi più importanti e anche al congresso a Bari sulla psichiatria quindi l'ho seguito per un certo periodo sempre con il nostro quartetto eccetera eccetera ho messo a confronto le reazioni del pubblico tra virgolette normale cioè noi noi siamo normali si spera e il pubblico che mi trovavo di fronte la stessa musica le stesse suite per quartetto che io suonavo la sera prima in teatro per altri per quelli paganti le suonavo per loro e le reazioni saranno uguali no? no erano assolutamente opposte e l'elemento di diciamo di frizione era la pulsazione ritmica ovvero in questi brani che erano anche di ricerca c'erano dei momenti di grande pulsazione diretta dove il quartetto si estendeva in una slancio vitale molto forte ritmico e poi si ritirava a pensare quindi la polifonia anche certe cose criptiche eccetera il pubblico normale durante le parti pulsanti si entusiasmava gridava faceva casino le parti invece speculative visto che siamo questo uso di tirubo questa parola speculative sospendeva il giudizio altro termine userliano e diceva e pensava diceva è interessante ma non c'erano reazioni emozionali allora beh dico succederà la stessa cosa invece esattamente il contrario cioè quando poi mi trovavo non più col pubblico ma con loro veramente davanti nel momento ritmico mi ricordo la prima volta che l'abbiamo fatto esclusivamente per loro dico adesso qui si scateneranno niente l'immobilità assoluta cioè io stavo suonando guardavo preoccupato dico non succede niente ma se ieri sera il pubblico saltava per aria nella parte criptica gridavano no signori è una cosa straordinaria e impressionante ma io guardavo queste queste reazioni e dico sarà un grido collettivo no signori erano individuali anche in questo non era collettivo erano questi segnali di difficoltà di decodificazione mentale li faceva soffrire sentivano male proprio dolore e ognuno faceva le sue reazioni ma ognuno per conto suo ho capito primo solitudini vicine secondo manca completamente la reazione alla pulsazione ritmica terzo il il concetto li fa soffrire allora mi sono concentrato sul ritmo e sono andato a approfondire le cose che noi facciamo a volte subconsciamente a volte bisogna anche teorizzarle capire da dove vengono e il ritmo nella nostra musica e in generale nella musica viene dai primordi ad esempio nel tourney che ho fatto in Africa mio padre poi era un famoso africanista quindi io ce l'ho nel sangue l'Africa e là il ritmo dove non è arrivato l'occidente accompagna tutti i momenti della vita e della giornata nel villaggio ovvero il fidanzamento delle copie eccetera ritmo danza canto eccetera non arriva la pioggia ritmo le stagioni che cambiano il raccolto addirittura quando si arrabbiano e sono in stato di guerra che poi non succede niente ma comunque sono guerrieri che danzano tutto avviene la vita di tutte le persone che passano dalla vita alla morte sono accompagnati persino i defunti sono accompagnati da ritmo e tutto avviene perché c'è il villaggio la comunitas non c'è la solitudine e allora ho cominciato a pensare questi non sentono il ritmo perché non hanno più avuto non hanno avuto tribalità e cos'è la tribalità nel mondo moderno prima di tutto la famiglia infatti erano tutti scardinati dalla famiglia abbandonati non andavano a trovarli se ne erano liberati siccome davano fastidio in casa erano a gestirli beh scarichiamoli sul manicomio e Basaglia ha risposto no adesso ve li restituisco dovete curarli cioè che poi la legge sia stata applicata no questo non ci riguarda cioè ci riguarda ma non è argomento di questa sera sempre in Italia si fa magari leggi buone poi è difficile poi farle funzionare comunque il principio suo era esatto e io ho capito che lui aveva ragione cioè mancava prima di tutto la tribalità della famiglia ovvero gli affetti e poi famiglia può essere anche tuo zio che ti ha allevato lasciamo stare l'idea di famiglia cioè non ci avevano affetti nessuno che andava a trovarli nessuno scaricati come da un camion a ribaltabile in questo posto dice tanto se ne curano loro e poi non c'era non c'era la tribalità del quartiere della tribalità della zona dove abiti io so a Milano esco conosco tutti ci salutiamo mi fermo poi adesso c'è la psicanalisi gratis no? io incontro persone che mi scaricano praticamente 35 minuti di psicanalisi gratis io boccheggiante vado via poi a curare me stesso perché cioè c'è questa cosa che è saggia ad esempio le signore con la sport eccetera si incontrano e tra loro si scaricano reciprocamente tre quintali di roba e dopo vanno via tutte le leggere capito? questa è la famosa psicanalisi gratis però c'è tribalità in qualche modo ad esempio Milano che è una grande metropoli che è la mia città ogni via ogni cosa è una tribù conosciamo tutti in qualche modo abbiamo ricostruito questo tessuto e ogni tanto si trova al solitario anche in queste grandi vedi quello proprio che non ha amici che non conosce nessuno che non è riconosciuto da nessuno e quella è l'inizio della malattia allora l'assenza di pulsazione ritmica è l'inizio della malattia ecco il movimento il concetto di movimento io adesso sai il libro è talmente vasto io se mi consenti ti faccio un po' ti introduco i tuoi argomenti di cui hai parlato così sapientemente la modernità a un certo punto attraverso Cartesio Leibniz Bach eccetera arrivi al capitolo la modernità da Mozart a Beethoven come dire da Kant a Hegel ecco una cosa che mi è piaciuta tantissimo che mi hai spiegato una cosa di cui non mi spiegavo che non mi spiegavo perché Mozart che i musicisti hanno frequentato che ho frequentato sempre sia li ho eseguiti li ho studiati ma poi ho anche l'opera Omnia in disco quando costava poco me la sono comprata 250 dischi adesso non si trova più e per cui per cui Mozart ecco dopo un quarto d'ora di ascolto di Mozart io mi sentivo male e non capivo cominciavo a star male proprio somatizzavo ma più che somatizzavo cominciava in me una sofferenza e e non capivo però era talmente bello cioè era una bellezza che mi faceva soffrire allora finalmente me l'hai spiegato ed è questo ad esempio nel Don Giovanni tu dici una cosa ecco una cosa molto Mozart un vero e proprio genio dell'innocenza e della purezza certo anche della sfacciataggine della perversione più provocante lui nella vita era scatenato di quelle che possono prevenire solo da una persona fin troppo sincera ecco ma qui dici il suo nel suo tardo capolavoro il Don Giovanni riuscirebbe a farci sopportare riuscirebbe a farci sopportare cosa che io non riuscivo a sopportare una forsennata alternanza di sentimenti contrapposti nel Don Giovanni la felicità e il dolore non hanno infatti né risoluzione né termine per cui la mia sofferenza era questo che con quella purezza con quella sincerità con quella sfacciataggine di genio ti butta in faccia la cosa più orrenda la cosa più sofferente e più drammatica vicino alla cosa più gioiosa ma non trova non vuole risolverle le lascia irrisolte e crea la drammaturgia in questo senso perché tu passi dall'esaltazione all'abbattimento più totale nella gamma dei sentimenti del sentire e questo mi faceva soffrire ti ringrazio adesso ho la chiave del e poi c'è c'è il capitolo dove tu arrivi Wagner Nietzsche e Mahler ecco qui siamo praticamente nel tardo romanticismo e Nietzsche viene fuori chiaro che Nietzsche ha influenzato tantissimo questi musicisti in una maniera spaventosa cioè l'oltre l'uomo che oggi si dice banalmente il super uomo perché in fondo non so se ho capito bene io ho letto tutta la parola di Nietzsche cercando di capire ma mi pare di aver capito che sia stato usato da tutti e da tutto Nietzsche cioè dal dittatore massacratore di ebrei eccetera che legge Nietzsche il super uomo lo sono io e comincia a fare col baffetto a fare sta roba qua quell'altro che dice ah sì allora posso fare quello che voglio tanto io sono al di là del bene del mare e c'è questi che creano le comunità oscene eccetera dove rapinano dove possiedono le anime dei poveracci che vanno lì e nel mondo moderno attenzione che l'Italia è piena di questi trabocchetti sorvegliati sui giovani perché ci cadono dentro appena uno in difficoltà arriva uno di questi ti prende io ti salvo e lì non esci più attenzione ragazzi insomma io ho fatto esperienze anche di gruppo negli anni 50 volevo vedere bene cioè il microcosmo non risolve niente nel microcosmo il gruppo microcosmico di ricerca lì dentro si crea tutto quello che c'è nel macrocosmo a livello di essenza cioè moltiplicato per mille per cui ho visto gente timida che entrava in tre giorni come andavano gente che era sicura di sé non capiva più niente cioè c'era chi era Bergson che diceva mettete cinque uomini cinque donne cinque bambini insieme e avrete la tipologia di tutta l'umanità ti ricordi che lo diceva è impressionante quindi non facciamo gruppi siamo pensatori liberi siamo esseri liberi viva la libertà e in questo senso tu parli di decadence ma poi passi al novecento Kandinsky Schoenberg Stravinsky la grande svolta ecco ci vuoi spiegare perché era una grande svolta e ti ho incastrato no ma come vedi ho appuntato il tuo libro l'ho appuntato tutto guarda che qui ci sono venti pagine la grande svolta nel senso appunto che quelle opzioni di cui hai anche parlato riferendoti a Mozart a Beethoven opzioni contrapposte per cui da un lato avevamo Mozart incapace di sintesi no? quello che mancava come tu dicevi bene è proprio il momento della sintesi no? quella sintesi che invece dal punto di vista filosofico Hegel avrebbe come dire strutturato nella forma più radicale e che in Beethoven invece vuole realizzarsi vuole realizzarsi nella misura in cui ecco adesso semplifico in modo bestiale ma in lui era perfettamente consapevole che cosa? quello che era il compito della musica il compito del musicista e della sua musica era quello di dare voce ad un eterno parlava di questo lui un eterno l'assoluto Dio parlava di questo Beethoven la musica sarebbe riuscita laddove appunto in essa a parlare fosse stato questo eterno in cui gli opposti avrebbero trovato la loro perfetta soluzione di questa possibilità portata dall'esasperazione fino alle ultime propaggini della grande avventura romantica il novecento avrebbe esperito la crisi più radicale cioè ogni tentativo si sarebbe pur fatto negli autori che tu hai citato nello stesso Mahler questo è vissuto tragicamente ma questo c'è nicio alle spalle come hai ben detto perché c'è nicio alle spalle perché qui diventa finalmente consapevole che la ricerca di questo telos di questo fine ultimo era insieme necessaria ineludibile ma anche in uno impossibile impossibile e il musicista come dire continuava in questa ricerca consapevole della sua impossibilità questa è la tragedia no? e quindi alla fine ecco il gesto rivoluzionario per esempio di Schembe era un gesto che riguarda Schembe musicista ma che riguardava in quel periodo altri grandi esponenti dell'arte nel novecento Kandinsky per esempio e che cosa succede? Kandinsky per esempio per passare a un altro campo pensa alla sua pittura in termini appunto di movimento e di musica Kandinsky vuole fare il suono giallo il suono giallo ma Kandinsky e qui invito a rileggere questi testi perché poi quando leggiamo sui libri di storia dell'arte ci dicono Kandinsky la spiritualità nell'arte la spiritualità fondamentale il primo grande libro in cui tematizza questo perché tutti lo leggono ancora oggi vedo nei libri di storia dell'arte Kandinsky è quello che sarebbe passato dal figurativo all'astratto i primi grandi acquarelli estratti chiamati non a caso improvvisazioni di Kandinsky ma non è questo il problema di Kandinsky non è questo il problema di Kandinsky è un altro e lo dice nello spirituale nell'arte lo dice chiarissimamente il problema suo lui lo chiama il che cosa qual è il compito del mio fare artistico lo dice chiarissimamente verso non alla fine ma a tre quarti del libro il suo che cosa era riuscire ad esprimere il movimento puro senza cause senza fini un movimento che non ha né inizio né compimento un movimento assoluto che è anche quindi movimento rispetto al proprio essere movimento cioè è movimento e come avrebbe detto Hegel in quanto tale è già passato nella quiete è uno con la quiete questo lo diceva Kandinsky questi erano i problemi che si poneva Schemberg quando si rende conto diciamo in forma semplice si rende conto che nessuna forma nessun appollinio ecco Nietzsche che alle spalle risuona continuamente in questi autori nessun appollinio avrebbe potuto come dire proporsi come forma di quell'eterno di quel movimento perfetto ma solo la sua capacità da parte dell'appollinio avrebbe potuto fare ciò dire questo solo laddove questo appollinio fosse stato capace di come dire porsi dirsi di centosi ecco che quindi Schemberg attenzione tenta la atonalità perché capisce come dire che quelle forme non avevano non potevano più pretendere erano esaurite non potevano essere quelle episteme quella verità incontrovertibile non potevano esserlo e allora cosa fa passa al periodo della della atonalità in cui c'è come dire questa potenza liberatoria eversiva no che nega la forma si ma ci arrivò per per gradi suoi di sviluppo artistico certo poi li analizzò quando nel Kerstegnacht mi ricordo l'ho diretto dice ma questa melodia che io ho scritto tra l'altro era un brano commissionato da una società concertistica che poi l'hanno criticato cioè perché dice ma come nelle prime battute c'è un accordo di nona e adesso è un termine un po' tecnico poniamo dal partendo dal do mi sol si bemolle re bemolle e in conservatorio ti insegnano che la nona deve sempre star sopra l'ottava devi fare do re bemolle non do re bemolle quello è un semitono e lui l'aveva messa sotto invece re bemolle do e allora gli hanno bocciato il pezzo questi musicisti questi musicisti hanno passato l'ina di Dio rispetto alla codificazione tradizionalistica degli enti ma poi lui arrivò ad analizzare queste melodie che lui scriveva sotto la spinta di un'evoluzione e diceva questa melodia non appartiene a nessuna tonalità però io l'ho scritta e allora ha cominciato a pensare alla tonalità e poi a teorizzare il sistema dei dodici suoni che si chiama dodecafonia che ha praticamente sconvolto il secolo però c'è tutta una corrente di grandi autori come Stramici e Cezza che non si sono lasciati travolgere dalla scuola di Vienna e hanno continuato a fare altre cose adesso il discorso dopo un secolo è a parte che da metà degli anni del novecento negli anni cinquanta con la nuova scuola di Danza ha preso un altro tutto un altro via la musica contemporanea quindi vedete un'invenzione che poi il sistema dodecafonico è una cosa semplicissima sono tre regole e quattro regole e ha cambiato la storia della musica colta tra virgolette di questo secolo ma tutto è nato dal fatto che dalla decadence di Wagner Nietzsche Mahler eccetera si è passato lui ci è passato in mezzo ma poi dopo si è liberato quindi diciamo al musicista chiave tra ottocento e novecento e così è stato Kandinsky sul piano della pittura andiamo avanti se mi consenti hai ancora qualcos'altro da dire? allora ecco ad esempio tu hai fatto il parallelo Kandinsky Schember c'è un altro parallelo che è l'altra scuola che è grandissima diciamo Stravinsky e Mondrian vedi che anche qui c'è un raffronto c'è anche una affinità elettiva poi ecco influenze da Hanslick Hanslick fino all'ottocento lui era un antivaneriano perché la cultura vaneriana aveva posto l'accento sui contenuti della musica e Hanslick scrive questo libro che si chiama Il bello musicale che ha sconvolto e ha creato un dibattito infinito in cui dice la musica non contiene altro che se stessa hai capito e poi Stravinsky l'ha ripreso nel suo libro come si chiama La poetica della musica dove si diverte perché Stravinsky era un genio ma era burlone nella vita intanto ciuccava ogni tanto la vodka gli dava la testa io ho un filmato dove lui dirige in Canada che era il fine del mondo e sulla nave perché non viaggiavi sulla nave con un amico russo che era lì e ciuccano la vodka poi parlano e bevono e la prova si svolge che lui sta provando la sinfonina dei salmi uno dei grandi capolavori e faceva caldo c'ha una camicia e qui una manica arrotolata per tutto il tempo dei provi gli cade la manica e lui continua a tirare su questa manica ma era un gioco si divertiva a fare queste robe e lui in quella poetica della musica dice ma provate ad esempio quel capolavoro di che farò senza Euridice dall'Orfeo di Glou e dice provate a cambiare le parole che farò senza Euridice che farò senza il mio bene provate a metterci altre parole la musica è talmente bella che sta in piedi da sola e voleva dimostrare che non era quello il contenuto delle parole insomma andiamo avanti perché se no stiamo qui siccome l'argomento è talmente appassionante e non sparate sul pianista mi raccomando ma neanche sul filosofo lui si definisce filosofo trombettiere mi piace molto questa cosa che non trombettista perché trombettiere perché c'è l'annuncio capito il trombettista poveraccio fa il suo mestiere il trombettiere annuncia che era Armstrong annunciava bene la musica contemporanea arriviamo alla figura del nuovo mondo cioè la musica contemporanea abbiamo toccato Ives tocchiamo Ives Varese Cage ecco su Cage hai scritto delle cose bellissime e si arriva al jazz del quale hai parlato lungamente all'inizio ecco una cosa che ti volevo chiedere a proposito del jazz dove tu già all'inizio dici che la pagina scritta ovvero il tema viene subito reinterpretato dal musicista e poi rimane come un pre-lineetta testo un pre-testo questo è vero nei piccoli gruppi nel duo noi stasera faremo questa cosa qui prenderemo tre temi tuoi che mi hai dato li ho visti adesso come si dice a Milano e praticamente li facciamo a pezzi però c'è dentro nel subconscio questo tema che tu hai dato e questo va molto bene fino al quintetto ma quando c'è un gruppo di strumenti superiore 6-7 cominci a dover scrivere se no è un casino se no si fa la jam session eccetera fino alla grande orchestra allora lì secondo me una cosa che poi magari se hai avuto voglia in seguito svilupperai se hai avuto voglia il problema è il problema di chi scrive cioè del compositore nella storia del jazz i grandi compositori non sono più di si contano sulla mano e ho avuto il privilegio di stare vicino ad alcuni di questi grandi quasi tutti quelli che passavano dal centro poi li ho incontrati in America li ho incontrati in Patoapato e in particolare sono stato vicino a Duke Ellington sono stato vicino a John Coltrane di cui ho fatto anche un disco che trovate stasera sono stato molto vicino a Ornette Coleman che è venuto a casa mia in campagna abbiamo suonato cinque ore in duo da soli in un teatrino che avevo nella casa poi è venuto tutto il paese a sentirci molto amico di Max Roach ho fatto dischi in duo con Eddie Gomez che era il bassista di Bill Evans eccetera eccetera con Anthony Braxton ma delle robe di questo tipo ad esempio con Braxton come li ho incontrati questi ho fatto Braxton Razverrad duet c'è L'On Plane ci sono L'On Plane e Eddie Gomez allora Eddie Gomez quando sono nato a New York al Public Theater quando c'era l'intervallo nel retropalco c'era buio sono attraversato per andare in camerino e sento uno che mi abbraccia e mi dice che gli era piaciuto tantissimo e che era così contento di conoscermi e io dico ti ringrazio molto ma chi sei? dice sono Eddie Gomez e dice voglio fare un disco con te e io dico ma vieni vieni allora ho preso l'indirizzo e abbiamo fatto poi un anno dopo il disco in Italia Braxton invece perché il musicista di jazz è così è così cioè non è formale non è accademico per cui gli devi scrivere gli devi fare il contratto no questi qui così alla voce Braxton aveva dei miei dischi io avevo tutti i suoi eccetera siamo scambiati dei pareri simpatia e anche lì dice dobbiamo fare un disco insieme c'erano il long plan allora quindi 20 minuti da una parte 20 minuti dall'altra e ho proposto senti Anthony facciamo una facciata di musica tua e una facciata di musica mia benissimo mai più sentito a Milano dopo tipo 8 mesi suona il citofono alle 10 di sera chi è sono Anthony Anthony vabbè sali sale con l'ascensore entra nel salone c'è il pianoforte a coda bianco perché io amo il pianoforte bianco e dice questa è la mia facciata dopo 8 mesi e mette 30 pagine sul leggio e io ho detto guarda che io ho preparato anche la mia e c'era una cartellina quando registriamo domani o solo domani benissimo pronto a inseguire gli studi di registrazione eccetera per fortuna era libero e il giorno dopo abbiamo fatto il disco ma la musica che mi ha messo davanti era tutta gestuale c'era K1 K2 e io andavo avanti poi c'erano dei disegni delle cose e poi a un certo punto scusa Antriman cosa vuol dire K2 guarda alla fine c'era l'indice bisognava vedere K2 vai giù col gomito K3 soffiati il naso mentre suoni non so delle robe così ecco per dirti delle cose di questo tipo invece con Rasverad è arrivato con la moglie il bambino la moglie era piuttosto grossa era il quinto matrimonio la moglie un colosso così intelligente da morire ma occupava molto spazio e il bambino era magrissimo il bambino era magrissimo e l'ho messo nell'albergo vicino a casa mia e il bambino di notte è sceso con una finta pistola e ha spaventato il portiere questo non era pena in inglese c'era 4 anni insomma questo è l'ambiente e poi mi ha detto io mi ricordavo che lui aveva quando aveva bisogno di soldi a New York faceva il tassista per anni ha fatto il tassista sapete che a New York chiunque può se in regola con la legge eccetera e conosce la città va e affitta un taxi gli danno il permesso i sindacati per cui può lavorare 20 ore al giorno ci sono degli italiani che hanno fatto i soldi così grandi lavoratori io conosco un tassista di New York italiano che nel giro di 3 anni lavorando 15 ore al giorno ha messo su un'impresa ha 4 tassi si è comprato una casa si è sposato ecco e lui faceva il tassista allora mi fa senti domani resistiamo dopo domani devo suonare al festival di il festival lì in Liguria un famoso il famoso festival e dice però come faccio devo portare mia moglie e mio figlio e e mi ci vuole una macchina dico guarda te la presto io e gli ho prestato la mia Fiat diciamo molto lunga è sicuro che lui l'avrebbe guidata bene perché era tassista e allora finalmente è andato il giorno dopo me l'ha riportata perfetta io non so che strada abbia fatto questi sono i musicisti capito cioè i musicisti di jazz hanno questo spirito provate a farlo quando io negli anni nel pieno 68 mi chiamavano gli operai che erano in lotta Gaslini vieni vieni dacci una mano ma dove siete siamo chiusi dentro in una fabbrica io andavo con la macchina gratis mi pagavo anche le spese e suonavo per loro e ne abbiamo fatte riaprire almeno tre importanti tra cui la Torrington di Genova sopra c'erano 80 operaie e c'era la multinazionale che le voleva voler ecco cioè io ho chiesto ai musicisti classici ai strumentisti venite anche voi e uno mi ha risposto non vengo perché si rovina il mio violino l'avrei picchiato insomma ma come si fa io ho rischiato la pelle per fare queste robe qua e vedete che c'è tutta un'altra mentalità non per dire io sono bravo ma ero ero pronto a partire su questi qui pieni di accademismo di formalismo e si vede poi come affrontano la musica no? a parte che sono bravissimi suonano tutto sono meravigliosi però gli manca questa cosa e arriviamo al suono la temporalità ne hai parlato ecco la scrittura e l'improvvisazione vorrei che tu mi chiarissi questa antinomia che tu vedi tra scrittura e improvvisazione perché poi ho qualcosa da dirti da chiederti e direi che siamo un po' alla fase finale sì direi su questa fase poi facciamo magari ascoltare se quello che abbiamo detto ha un senso no la punizione finale cioè la punizione finale e scrittura e improvvisazione ecco io credo che nel jazz tu mi chiedevi mi dicevi prima della parte scritta orchestrata no? come la mettiamo lì? ecco io direi che al di là dei modi tradizionali di intendere la scrittura e l'improvvisazione come due dimensioni distinte e qui direi astrattamente distinte per cui la scrittura è un vincolo ben preciso che deve essere tradotto in suono per come come dire ci viene proposto dalla carta dal testo l'improvvisazione è come dire invece una scrittura questo si intende normalmente una scrittura istantanea cioè non sulla carta ma attraverso lo strumento immediatamente e che in qualche modo ha una struttura evidentemente segue delle forme delle indicazioni strutturali ma intorno a queste direzioni queste indicazioni si muove secondo una estemporaneità che non è predeterminabile che ogni volta si darà diversamente questo è il modo tradizionale di intendere io credo questo tento anche di un po' far vedere in alcune pagine insomma di questo libro credo che in realtà nel jazz l'improvvisazione inizi laddove una pattitura venga letta venga suonata eseguita non è dopo il testo scritto e qui emerge la potente valenza del suono che nel jazz fa di ogni musicista un irripetibile parlare di bel suono del jazz non ha nulla a che vedere con quello che l'accademia colta classica intende per bel suono il bel suono ha delle caratteristiche secondo la nostra accademia e la nostra storia ha delle caratteristiche che potremmo semplificando un po' definire universali valide per tutti a cui l'individuo deve assoggettarsi nel jazz il bel suono è il suono sporco lacerato graffiato di Louis Armstrong quello vero insomma quello vero quello vero ognuno ha il suo suono ed è bello nella misura in cui è suo e quel suono è già improvvisazione io mi ricordo Monk l'ho visto molto da vicino suonava così cioè spingendo i tasti dando un'enfasi al tasto dall'alto e veniva fuori quel suono unico che non c'è mai più stato nella storia del jazz Ellington invece era danzante aveva questa mano grande poi sono stato molto vicino eravamo amici con Bill Evans era vicinissimo alla tastiera vicinissimo proprio suonava di pressione il peso il peso che è una delle scuole che abbiamo il peso del braccio il peso e da qui nasce il tocco il tocco non è solo touché di piano dicono i francesi nasce qui il tocco nasce addirittura dalla colonna vertebrale dal corpo arriva là ed è la tua psiche la tua mente il tuo sistema nervoso la tua capacità di toglierti e di mettersi e da questo punto di vista credo che nell'eseguire un brano jazz e nell'improvvisare nel senso che abbiamo detto davvero anche appunto siamo costretti a ripensare il rapporto spesso inteso in modo astrattamente dualistico tra corpo e mente assolutamente cioè non è il corpo che esegue passivo gli ordini della mente è un corpo che dice quello che è la mente da secco vorrei allargare il concetto dell'improvvisazione e se mi consenti cito un capitolo del mio libro il tempo del musicista totale dove tratto questo argomento e analizzo cosa l'improvvisazione sia stata tutta la musica nel romanticismo c'è stato nel periodo romantico c'è stato l'improvvisazione ad esempio le cadenze nei grandi concerti per pianoforte e orchestra molti interpreti erano lasciati liberi di improvvisare il famoso Paganini non ripete Paganini è stato un genio assoluto tra l'altro generosissimo finanziò Berlioso quando sentì la sinfonia fantastica di Berlioso tutti gli davano addosso chi è questo qui che fa sta roba lui gli mandò dei soldi a casa Paganini era un uomo a partire suonò alla scala di Milano anche Liszt Liszt amava con la carrozza alla domenica andare fuori Vienna nelle nei chalet nei localacci dove c'era un pianino scordato gli piaceva suonare questi pianoforti e Paganini non ripete perché Paganini creava queste sue composizioni le memorizzava e poi le cadenze erano improvvisate cioè lui prendeva come facciamo noi dei materiali sonori e li rimetteva insieme eccetera e bis 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 Paganini non ripete voleva dire se la ripeto la faccio diversa capite era il concetto dell'improvvisazione che si è perso nel novecento nella seconda metà nel novecento i musicisti di musica radicale per una diecina d'anni hanno indicato dagli anni cinquanta agli anni sessanta poi è passata sta cosa su certe partiture dell'epoca di Maderna di Nono di Berio anche ma di quel periodo lì insomma a un certo punto c'era il gruppo di strumenti tutto scritto eccetera e a uno di questi in generale il flauto la vittima gli si dava una durata 30 secondi su questi suoni tanti tanti delle puntine e questo faceva ma questa non è l'improvvisazione è un'elaborazione istantanea di di un materiale che ti ha dato l'autore quindi non ti lascia non c'è niente di tuo c'è la tua tecnica quindi è una finta improvvisazione si cita spesso il periodo barocco il basso continuo beh lì erano fiore di musicisti gli autori scrivevano la parte dei violini la parte del basso continuo eccetera e al cembro davano i bassi e sopra c'era una cifra c'era un'indicazione e questi con una competenza assoluta realizzavano che poi anche nel jazz ci sono le sigle se voi prendete i grandi libroni real book eccetera non c'è la parte per la mano sinistra c'è una sigla sotto G7 D9 eccetera diminuisce pure la quarta superiore eccetera per cui il musicista di jazz legge istantaneamente queste sigle il che va bene il che va male perché ci sono dei pezzi straordinari della storia del jazz che invece se li vedi vedi scritti come quelli di Ellington e mi ricordo se ti ricordi ieri nella mia orchestra quando abbiamo fatto la tournée di 35 concerti in Italia su Duke Ellington con Giorgio Bertazzi attore Elisabetta Pozzi e io recitavo la parte la biografia di Ellington poi dovevo suonare e anche dar l'attacco all'orchestra ecco esempio Star Cross Lovers se tu metti la melodia di Ellington e sotto ci metti le sigle tutti sbagliano Naima di John Coltrane la melodia guardi Real Book tutti sbagliano suonano l'accordo invece è un pedale di mi bemolle e sopra si muovono degli accordi cioè la parte di pianoforza scritta giusta ti dà tutto e quello lì è un telegramma quindi anche lì vede bisogna stare molto attenti insomma che l'improvisazione sia corretta ma il rapporto tra pagina scritta ovvero il compositore di jazz e i solisti ci sono degli esempi nella storia del jazz magistrali in questo senso vorrei convincerti ma forse già diciamo la stessa cosa Massimo sono d'accordo con te che il tema noi lo stravolgiamo lo interpretiamo eccetera sono d'accordo assolutamente su te sulla qualità del suono sulla personalizzazione del suono ma quando tu hai se io ti do qui 15 musicisti 20 musicisti che ci fai? cioè gli dai il tema poi improvvisate allora se la tua orchestra ti pone il problema di scrivere e tu crei una composizione ecco il modello elintoniano era magistrale io l'ho visto lavorare perché per poter abbiamo fatto qualche festival sullo stesso palco genico ma poi gli sono stato dietro il palco figurati se lo mollavo allora lui questa orchestra faceva ogni giorno una città una nazione una sera erano a Londra dalla regina ma tutti i re del mondo hanno voluto Duke Ellington è un uomo che è stato celebrato in tutto il mondo con questa orchestra che lui ha tenuto insieme 50 anni creando dai ragazzini che si è tirato su i più grandi protagonisti era stato la jazz Johnny Hodges Kat Anderson eccetera eccetera i vari Paul Gonzalves eccetera lui si è tirato su e ha creato un suono quello che tu dici del suono del solista lui l'aveva applicato all'orchestra io ho sentito l'orchestra di Ellington dal vivo non solo di Torre Quinte ma in prima fila mi ricordo al conservatorio di Milano e lui è proprio ha fatto questo star cross love cioè la stella dai destini incrociati che era nella suite che abbiamo fatto noi dedicata ai personaggi di Shakespeare era Romeo e Giulietta gli amanti della stella incrociata e si è alzato dall'orchestra Johnny Hodges primo alto questo omino è venuto a proscenio io ero lì e non sono uno molto facile che piange cioè a un certo punto ho attaccato il tema io ho sentito le lacrime venirmi giù dagli occhi ma non per via concettuale o qualcuno che ti dà una notizia no per via psicofisica mi aveva colpito i centri subconscienti qua mi aveva colpito non qua io ho caragnato tutto il pezzo cioè alla fine mi vergognavo con il fazzoletto e era star cross love ti ricordi ecco uno dei temi più belli della storia del jazz allora l'orchestra di Hugh Ellington aveva un suono e lui scriveva dopo il concerto siccome cambiavano città ogni giorno lui questi ragazzi questi grandi musicisti non li riusciva più a raccogliere uno in un albergo l'altro andava a giocare a cartella e allora scriveva diceva ragazzi andate al bar venite tra mezz'ora così proviamo il pezzo per domani insomma e lui sul pianoforte scriveva le parti non la partitura non faceva tempo a scrivere la partitura tanto è vero che la suite such with thunder suite cioè come un dolce tuono che è una frase del sogno di una notte di mezz'estate quando Puck il folletto dice ero nella foresta e a un certo punto ho sentito una musica ecco il telefonino ho sentito una musica ho sentito una musica e dice ma com'era sta musica? era such with thunder suite come un dolce tuono e lui l'ha presa questa frase l'ha messa come titolo della suite ecco quando il manager di di Giorgio che era Lucio Ardenzi che voleva finanziare questa tournée straordinaria che costava un sacco perché c'era evidenti musicisti due cantanti due attori io che dice e poi c'era tutto da portare ecco questa è l'altra voce e praticamente mi ha distratto il telefonino praticamente non c'era la partitura allora è andato un rappresentante della compagnia in America dal figlio di Ellington perché Ellington nel frattempo non c'era più e ha cercato nell'archivio e ha detto non c'è la partitura ci sono le parti però autorizziamo il maestro Gaslini a trascrivere il nastro sì buonanotte allora ci siamo messi con sei collaboratori a Roma che Lucio Ardenzi ha pagato allora nell'82 8 milioni mi ricordo per trascrivere nota per nota la partitura di Ellington e poi io l'ho ritrascritta per la nostra orchestra quindi non c'era la partitura non l'aveva scritta aveva scritto le parti ecco in questo senso però lui come scriveva attenzione qui veniamo al problema scriveva per i suoi solisti per Johnny Hodges scriveva per Eric Carnes se era per Kat Anderson quello che aveva i sovracuti e faceva le parti su misura come un abito su misura sui suoi musicisti li metteva insieme e poi diceva il pezzo è questo glielo suonava e cominciavano a suonare uno proponeva una cosa poco a poco nasceva l'arrangiamento che poi forse qualcuno dei suoi collaboratori trascriveva dopo era in genere come si chiamava quello sì Billy Streol che gli è stato vicino tutta la vita ecco a me è capitata un'altra cosa io ho avuto le Big Plan l'ho sempre scritto lasciando grande spazio ai solisti ma mirando il solista e poi invece quando ho fatto l'esperienza di cinque anni ai primordi di quell'orchestra che ha avuto un successo europeo italiana e anche mondiale ma che adesso è molto minore ai primi cinque anni insomma loro avevano formato questa Italian instabile orchestra e dopo un anno non avevano il pianista non avevano un compositore mi hanno chiamato Cigaslini non accetterà perché ha le sue orchestre i suoi gruppi è sempre stato leader sin dall'età di 16 anni eccetera e invece io ho detto mi interessa molto perché quanti siete 18 e ho visto tre generazioni di improvvisatori free qualche strumentista molto valido allora dico senti mandami mandami una lista con i nomi un numero di telefono e vicino segna se leggono la musica perché mi poneva il problema come fai a far suonare 18 capito poi instabile e allora mi è arrivato l'elenco c'erano i nomi il telefono e dice legge bene legge abbastanza bene poi c'era uno di loro che era un genio dell'improvvisazione ma era completamente naif c'era il telefono legge il manifesto al sabato e ho capito allora che problema si poneva di far suonare questi qui e io ho scritto delle partiture utilizzando anche i difetti che avevano vedi che tenendo conto dell'improvvisazione tenendo conto che noi stravolgiamo i temi eccetera eccetera c'è un problema di pagina scritta e di pagina improvvisazione però se la pagina scritta nasce sui solisti non c'è la dicotomia c'è quando è stampata da un altro e tu te la devi capito te la devi fare quindi abbiamo ragione tutte e due mi pare giusto vediamo di se riusciamo a fare qualcosa di tutto questo ma non vorrei che qualcuno concludesse dopo che abbiamo detto all'inizio in principio c'era il suono alla fine c'è il suono perché suoniamo adesso